E vediamo invece alla terza fattispecie, cioè il reddito estero che deriva da passivi income, da redditi passivi, dividendi, interessi e royalties. Vediamo come si comportano le giurisdizioni a tassazione territoriale. In primis, devo dire che i dividendi sono nel 100% dei casi esentati da imposizione, quindi esclusi da imposizione, per cui quando mi arriva il dividendo dalla mia consociata estera, io ho la casa madre a Panama, il dividendo non è tassato una seconda volta. E sul dividendo in realtà c'è poco da discutere, quindi nella misura in cui proviene da una filiale, da una branch, non ci sono problemi di sorta. La situazione si complica un po' quando si passa invece agli interessi, tipicamente gli interessi attivi ovviamente, perché stiamo parlando di fattispecie di tassazione, è chiaro che io tasso un interesse attivo, deduco un interesse passivo. Ora, che cosa succede? Quando io ho la mia società in una giurisdizione a tassazione territoriale, e magari io sono il soggetto che eroga un finanziamento alle consociate del mio gruppo, tendenzialmente quando mi ritorna indietro l'interesse attivo, perché quando concedo un finanziamento è tendenzialmente preferibile, quantomeno poi va analizzato il caso che sia fruttifero, quell'interesse attivo comunque, al di là del caso di specie, non viene tassato. Bisogna però fare attenzione a fattispecie in cui magari il soggetto erogante fa quello di mestiere, per così dire, e quindi eroga finanziamenti a cascata alle società del gruppo. Ecco, in quel caso potrebbe esserci un problema invece di tassazione dell'interesse attivo all'interno della giurisdizione a tassazione territoriale, così come potrebbe esserci un problema se quel finanziamento viene utilizzato poi indirettamente per lo sviluppo di un progetto all'interno del paese in cui si trova l'erogatore, quello che ha effettuato il finanziamento. Quindi anche sui flussi di interessi attivi, nonostante vengano dall'estero, bisogna fare le dovute distinzioni e prestare la dovuta attenzione. Per quanto riguarda le royalties, le cose si complicano ancora un gradino di più, si passa a un livello di complicazione ancora più elevato. Perché? Perché quando io ho sviluppato gli intellectual property rights, gli IP rights all'interno di una giurisdizione a tassazione territoriale, e questo è un concetto che comunque vale in generale e sempre di più barrai in generale per la maggior parte delle giurisdizioni, quantomeno quelle che sono riconducibili all'Ocse, quando io ho sviluppato questi IP rights all'interno di una giurisdizione avrò prodotto dei costi e molto probabilmente avrò dedotto in qualche modo quei costi che ho sostenuto per lo sviluppo delle licenze, dei marchi, dei brevetti, i diritti di proprietà intellettuale. Ecco, quando poi io concedo in licenza e mi ritorna una royalty perché mi faccio pagare dalle mie consociate o comunque da un soggetto terzo, pensate a un franchisee per esempio, e mi ritorna la royalty nel paese a tassazione territoriale, ecco, oggi non è tassata, domani direi che la situazione non è così scontata. Perché? Perché si in genera un problema che in gergo viene chiamato mismatch, in cui ottengo due agevolazioni, cioè ho dedotto prima il costo, non tasso poi il ricavo. Quindi, come dire, si va contro, si disattende un principio di simmetria che in materia di fiscalità è sacrosanto e questa cosa non va bene alla comunità internazionale per cui ogni qualvolta si presenta un mismatch, ma questo vale praticamente nella totalità dei paesi, non è così scontato che io posso, come dire, ottenere questa doppia agevolazione. Quindi anche in questo caso va fatta un'analisi precisa. Più semplice, fortunatamente, il reddito da locazione estera, quindi io, se tramite la mia società incorporata a Hong Kong, gestisco alcune proprietà immobiliari in giro per il mondo, il reddito da locazione estera è tendenzialmente tassato nel paese in cui insiste l'immobile, quindi poi quando mi ritorno indietro non è tassato una seconda volta. Quindi può avere ancora senso, in questo caso, incorporare una società in un paese a tassazione territoriale. Proviamo un minimo a entrare nel vivo di questi paesi che ho citato all'inizio, quindi Singapore, Hong Kong e Panama. Per un approfondimento vi rimando di nuovo al mio profilo LinkedIn, troverete un documento sull'argomento più dettagliato. Qui volevo fare alcune riflessioni per farvi capire, per far passare il messaggio che appunto non è così scontato andare, aprire, incorporare una società, quello che lo fanno magari ancora fare, inganciarci un conto corrente e già quello vendete Milani, vendete Milani ma al diavolo, io già l'ho fatto, allora diventa un attimino più complicato già renderla operativa e poi dobbiamo andare a esaminare invece il problema della tassazione. Per esempio, prendiamo Singapore con una tassazione sulle società del 17%, una corporate income tax del 17%. È senz'altro vero che tra l'altro a Singapore si applica il principio della remittance basis, cioè sono esclusi la tassazione i redditi prodotti all'estero e non rimessi all'interno di un conto corrente singaporegno, comunque non rimessi all'interno dei confini di Singapore. È senz'altro vero che i passi income esteri sono esenti da tassazione, lo è meno per le attività commerciali, per il discorso che ho fatto nella prima parte del video, cioè se le attività produttive, le attività di assistenza, le attività manageriali sono svolte all'interno di Singapore, è molto complicato anche in assenza di remittance evitare una tassazione locale del reddito. Per quanto provenga, lo ripeto, da clienti o pagatori che siano soggetti esteri, non c'entra pressoché nulla. Quindi il messaggio che deve passare è che non è banale pensare di utilizzare Singapore come società offshore e quindi tassata zero, sempre e per qualsiasi motivo. Non è così, o perlomeno non è sempre così. Passiamo invece a un'analisi veloce di Hong Kong. Hong Kong, se avete seguito il mio collega Valerio, il mio socio Valerio, su Tax Planning Internazionale, sapete perfettamente che oggi Hong Kong è praticamente a partire in tutto e per tutto alla Cina. Questo che cosa ha significato, che cosa significa e che cosa significherà sempre di più sotto un profilo fiscale. Chi ha lavorato con Hong Kong o chi ha provato a smanettare un po' su internet anche per capire se è vero che c'è la possibilità di utilizzarla come società offshore non tassata, avrà sentito di questo termine l'offshore claim. Che cos'è l'offshore claim? Quando tu incorpori e costituisci una società a Hong Kong alla fine dell'anno di imposta devi andare dal fisco locale e gli devi dire guarda io tutte le mie attività sono state svolte all'estero, tutti i miei redditi sono stati prodotti all'estero e quindi io voglio, vorrei, perché voglio non si dice, vorrei che tu mi esentassi da tassazione sui redditi di quest'anno. Ecco, non è così scontato, anzi lo è sempre meno che il fisco di Hong Kong che prima firmava gli offshore claim a occhi chiusi praticamente qualche anno fa ti conceda l'esenzione di quei redditi. Va visto nel suo complesso l'attività dove svolta, perché se c'è anche solo un fornitorio o solo un cliente a Hong Kong diventa sempre più difficile che il fisco di Hong Kong ti esoneri dalla tassazione su quei redditi. Prima era possibile una tassazione parziale, lo sarebbe in teoria ancora possibile, cioè se io produco sia redditi fuori da Hong Kong che redditi all'interno di Hong Kong allora io posso anche andare al fisco e dire non tassarmi questi e tassami questi. In ogni caso la documentazione che oggi Hong Kong, che il fisco, l'autorità locale richiede per produrre l'offshore claim è a dir poco devastante, cioè il quantitativo di carte che dobbiamo andare a produrre non è banale. C'è bisogno di una revisione da parte di un collegio locale di revisori contabili e va tenuta una contabilità estremamente minuziosa e articolata, perché ti chiedono la copia cartacea di tutte quante le fatture, quindi facciamo estremamente attenzione. E poi magari alla fine dell'analisi, che può arrivare anche dopo sei mesi, ti dicono che quei redditi vanno tassati. Quindi facciamo attenzione a credere che avrò Hong Kong e non tassò niente, perché loro ti dicono di sì, i service provider, perché sono furbi come poche volpi. Dall'altro lato alla fine dell'anno ti dicono guarda mi dispiace, il fisco mi ha rifiutato l'offshore claim, quindi watch out. Paese numero tre invece Panama. E Panama è un po' il vaso di Pandora, è inutile parlare dei Panama Papers e delle persone che hanno ingenuamente, diciamo così, aperto una società a Panama, quello che chiaramente è passato e deve passare come messaggio è che Panama non ha abbarcato illesa il giro di vite sui cosiddetti harmful tax regime. Cioè c'è stato un intervento tuttora in atto praticamente dal forum sugli strumenti fiscali dell'Ocse e dal gruppo che lavora al codice di condotta dell'Unione Europea, quindi fuoco incrociato da una parte del forum Ocse, da una parte del gruppo dell'Unione Europea, si sono svegliati una mattina e hanno detto andiamo a colpire tutti quelli che sono i cosiddetti regimi fiscali dannosi, quindi tipicamente questi regimi a tassazione territoriale che permettevano sempre e permettono ancora per certi versi una doppia non tassazione, questo l'obiettivo, poi al di là delle sigle che si sta cercando di andare a colpire, si cerca di evitare, evitare la possibilità di una doppia agevolazione, che può essere una doppia deduzione o una deduzione dal lato e una non tassazione dall'altro lato, sono dei fenomeni comunque di doppia agevolazione che tendenzialmente saranno sempre meno possibili, sia lo ripeto per l'intervento dell'Ocse e sia per l'intervento dell'Unione Europea, quindi questo è il futuro che ci aspetta, in conclusione quello che posso dirvi è che sono due i termini che dovete portarvi a casa, i concetti che dovete portarvi a casa e che cioè ai paesi, a tassazione territoriale verranno richiesti oggi e sempre di più due cose e perlomeno una di queste due cose, la prima è la sostanza, poi sulla definizione tecnica di sostanza faremo un video a parte perché vuol dire tutto, non vuol dire niente, però diciamo che si richiederà sempre di più il reale svolgimento di un'attività commerciale in loco, quindi no scatole vuote per intenderci e in alternativa si fa strada una subject to tax clause, cioè ti detasso, ti esento il reddito a tassazione, un paese a tassazione territoriale, quindi un reddito che proviene dall'estero, se è solo se quel reddito è stato già tassato in una determinata misura, più o meno poi ogni paese ha la sua percentuale e però tu sei in grado di dimostrarmi che effettivamente è stato tassato quel reddito e quindi mi fornirai una prova dell'avvenuto versamento di imposti all'estero per esempio, quindi questo si va sempre di più in questa direzione. Se ti è piaciuto questo video clicca like, iscriviti al canale di Tax Planning Internazionale e attiva le notifiche per ricevere in tempo reale i nostri aggiornamenti. Io sono Luca Tagliatela, spero che questo video ti sia piaciuto, se è così ti aspetto nel prossimo e ti auguro una buona serata.